16 dicembre 2021, finalmente è pronto il film su Padre Marella, La sorpresa, l'eccezionale storia di Padre Marella. Un progetto cominciato due anni fa con l'intento di far conoscere a Bologna e non solo e rendere noto a tutti l'eccezionale storia di quest'uomo, prete, educatore, uomo di carità che ha certamente affascinato la città di Bologna ma non solo. Il progetto fin dall'inizio è stato un progetto di partecipazione mettendo insieme la professionalità degli sceneggiatori, del regista, di tante persone che hanno poi realizzato praticamente il film, la troupe e tutta la crew, insieme a tante persone che dalla diocesi di Bologna non solo hanno risposto, alla fine sono stati 300, i volontari che si sono lasciati coinvolgere hanno partecipato con grande entusiasmo a questo progetto. Anche nella realizzazione del film dal punto di vista finanziario il progetto è stato condiviso, insieme a diocesi di Bologna tanti, aziende e privati hanno collaborato a rendere possibile questo sogno. Quello che abbiamo pensato, che volevo sottolineare con questo film diciamo così, la possibilità è la possibilità di incontrarla questa umanità, questa eccezionale umanità e allora insieme ai tanti fatti straordinari che abbiamo raccolto abbiamo messo un po' in fila tutti questi fatti eccezionali e a questi fatti abbiamo abbinato una linea temporale differente che quella dell'oggi, proprio domandandoci la possibilità che c'è oggi di raccogliere l'eredità di quest'uomo che ha segnato profondamente Bologna, che ha salvato tantissimi bambini, tantissimi giovani in un periodo difficile e che ha affrontato le difficoltà con grandissimo slancio donato dalla fede. Una fede incrollabile anche quando ha avuto con con la chiesa difficoltà non è mai stato critico ma ha continuato nella sua opera, ha continuato a nella suo cammino di fede creando opere realtà che hanno segnato come dicevo prima profondamente tantissimi giovani come la città dei ragazzi a Bologna e allora questo film che ho scritto insieme a Giampiero Pizzol e che ho diretto ha lo scopo un po' di rincontrare di dare la possibilità di incontrare questa figura e l'abbiamo fatto con circa 350 ragazzi con tantissimi professionisti tra cui Stefano Abbati che ha interpretato padre Marella e che già dopo due giorni di set ha fatto dimenticare di essere Stefano Abbati tutti noi abbiamo ritrovato un padre Marella assolutamente credibile dai connotati assolutamente veritieri.